Il mondo dello spettacolo che ha perso Paolo Villaggio, un comico di rottura possiamo definirlo, ma anche un grande autore e scrittore con la sua pena ha dato vita a diversi personaggi entrati un po' nell'immaginario collettivo di tutti noi. Ugo Fantossi ovviamente è il più famoso, il più famoso ragioniere d'Italia, e poi c'è l'impiegato Gian Domenico Fracchia. Allora domani la Camera Ardente in Campidoglio a seguire una cerimonia laica alla Casa del Cinema di Roma. Allora ne parliamo con Steve Della Casa, autore e conduttore a Radio 3 del programma Hollywood Party, benvenuto. Milena Vukotic, attrice da tanti anni e per tanti anni al fianco di Paolo Villaggio. La seconda moglie per la cronaca perché la prima era Liubo Osisio, però sette film insieme sono storia. Una sorta di coppia di fatto possiamo dire? Così si dice. Sì sì, è stata un'esperienza molto importante per me. Siamo qui purtroppo per parlarne, ma ribadisco sempre che questo mio percorso con Paolo è stato essenziale direi e che gli sono molto grata. Ci vuole raccontare un ricordo che ha in particolare? Ma di ricordi ce ne sono tanti perché quando sono credo arrivata al decimo incontro con lui, lavorando in un film così le avventure si susseguono e comunque è stato molto bello anche perché non è stato solo un incontro di lavoro ma anche al di fuori del lavoro, c'è stato sempre una possibilità di vedersi, di stare insieme anche con Maura, con Elisabetta. L'ultima volta che l'ho visto Paolo è stato proprio Elisabetta Villaggio ha scritto un monologo, un piccolo monologo che si chiamava Io sono Virginia, Virginia Agnelli e lui era venuto a vedere naturalmente il lavoro di sua figlia e io così, è stata l'ultima volta che l'ho visto. Steve, diciamo la verità, il villaggio attore è solamente la punta dell'iceberg perché poi è raffinato uomo di cultura. E soprattutto il villaggio attore non è solo Fantozzi perché ha fatto anche i film con Fellini, con Ermanno Olmi, con Monicelli e poi è stato anche un fumetto, è stato un fumetto ispirato da Fellini, disegnato da Milo Manara e poi però è stato anche un autore per esempio di canzoni, ha scritto alcune delle più belle canzoni di D'Andrea, Via del Campo, ci ha messo le mani e anche in altri ancora, ha lavorato in cabaret con Iannacci, con Cocchiere Nato che poi l'ha ritrovato anche in televisione. È stato veramente un personaggio globale dal punto di vista della produzione artistica non si è fatto mancare niente. Milena, lei ha lavorato con grandissimi attori, grandissimi registi, da Biunella a Tarkovsky lavorare con Paolo Villaggio com'era? Era un'esperienza molto particolare perché Paolo non era una persona facile, era facile e molto complessa contemporaneamente. Mi è venuto di pensare che era, parafrasando un po' il film di Buñuel l'indiscreto fascino di Paolo Villaggio, ecco, perché insomma era una personalità così forte che non era sempre facile. Però io sono stata fra le persone, credo che lui, la quale lui è stato molto affettuoso e... C'era un legame molto forte. Sì, sì, c'era un legame e... Steve, si dice lutto nel mondo dello spettacolo ma forse è anche improprio. Perché? Perché Fantozzi siamo noi, se uno vuol capire com'è stata l'Italia degli anni 70 vede i film di Villaggio e capisce subito l'aria che tira. Lo ha detto anche Benigni, ci riconosciamo tutti in Fantozzi. Eh sì, perché Fantozzi è una... come se fosse un aggiornamento della commedia dell'arte. Prima i personaggi, non so, di Totò, di Alberto Sordi appartenevano a un'Italia diversa, un'Italia molto più familiare, più a misura umana. Fantozzi rappresenta l'alienazione, cioè le multinazionali, questi uffici giganteschi, labirintici nei quali lui lavora, la corsa disperata per prendere un pullman su una tangenziale che lo deve portare a lavorare. Insomma, rappresenta come si è evoluta l'Italia, come si è evoluto anche il mondo del lavoro. Fantozzi è la vittima globale di tutto quello che... Dove poi comicità e tragicità si fondono insieme. Eh sì, perché sempre nei film di Fantozzi c'è sempre un aspetto decisamente divertente, un altro invece che ti fa pensare anche con delle punte proprio di... abbastanza amare. Milena, ecco appunto, parlando di Fantozzi, lei che per tanti anni sul set ne è stata la moglie, come vivevate l'ironia ma anche la vicinanza alla realtà poi? Ma sì, era un compagno di gioco secondo i giorni, ma gran parte dei giorni era molto caustico e... presente nella realtà che ci circondava quei giorni lì. Sì, era molto attento a quello che succedeva quotidianamente, dice, nel paese e quindi lo riportava un po' nei suoi film. Sì, sì, secondo i giorni. Cambiava spesso le battute un attimo prima di girare? Oppure mentre giravate lei cambiava le battute? Improvvisava? No, 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 no. Sempre aderente? Era molto... Sì, sì, ligio alla sceneggiatura. Sì, era raro che facesse... Io volevo dire una cosa, posso dire, parliamo solo di Paolo come attore di cinema, ma lui è stato un grandissimo attore di teatro, è stato messo in scena da Streller, ha fatto il suo spettacolo, al quale credo tenesse moltissimo, in cui ripercorreva un po' tutte le fasi della sua carriera. Anche se poi lui in qualche intervista dichiarava che non si sentiva tanto attore quanto scrittore e uomo di cultura. Steve, andiamo oltre il set, ricordando quello che ha appena detto la Vucotice, non solo cinema, non solo teatro, ma anche la famiglia. Un rapporto abbastanza complicato quello con i figli, una corsa contro il tempo e un rapporto recuperato in questi ultimi anni? Eh sì, perché non svegliamo nessun segreto, lui l'ha sempre dichiarato, ha avuto un figlio che ha avuto anche dei problemi di tossicodipendenza, insomma ha avuto parecchi problemi, ma negli ultimi anni della sua vita era legatissimo. Io quando avevamo l'onore di averlo a Hollywood Party, venne proprio con Elisabetta Villaggio e fu un dialogo che trasudava veramente affetto. La quale a marzo di questo anno si è scagliata contro il cinema dicendo che lo aveva dimenticato. Sì, lo aveva dimenticato sicuramente, altrettanto sicuramente credo che lui non si ritrovasse più tanto nel cinema che c'è oggi. Certi personaggi non si possono portare avanti all'infinito e non è detto che uno abbia voglia, una certa età, di reinventare un nuovo personaggio. Quindi sicuramente è così, però può darsi che il cinema l'abbia dimenticato, ma rimaneva uno degli attori e degli autori più popolari d'Italia. Bene, grazie, grazie per essere stati con noi. Noi diamo la linea. Probabilmente non è sbagliato dire che siamo tutti un po' morti con Fantozzi ieri. Una piccola parte di noi forse non c'è più. Bene, grazie, grazie per essere stati con noi. Antonia Varini dal web che ci racconta...